Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con la cronaca, incidente nelle campagne di Vasto dove un uomo di 69 anni, camionista in pensione, è morto mentre lavorava in un terreno di sua proprietà. L'uomo era andato con il suo mezzo agricolo carrellato in località Pezza del Marchese nei pressi del villaggio Siv. Non vedendolo tornare a casa all'ora di pranzo la figlia è andata a cercarlo e lo ha trovato purtroppo ormai senza vita, travolto dal trattore. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto i vigili del fuoco i carabinieri della locale compagnia. Su disposizione del magistrato di turno la salma è stata restituita alla famiglia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Francesco Marfisi, il cinquantenne accusato di duplice omicidio di moglie dell'amica giovedì scorso. L'uomo resta così nel carcere di Lanciano. Paolo Renzetti. Si è avvalso della facoltà di non rispondere questa mattina in tribunale a Chieti Francesco Marfisi, il cinquantenne ortonese accusato dell'omicidio della moglie Letizia Primiterra e dell'amica Laura Pezzella. Assistito dall'avvocato Rocco Gian Cristofaro, Marfisi non ha risposto alle domande del pubblico ministero Giancarlo Ciani e del GIP del tribunale teatino Luca De Ninis. L'uomo resta così in isolamento nelle carcere di Lanciano dove si trova dalla nottata di giovedì. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, aveva già rilasciato le dichiarazioni quindi era inutile continuare a farlo parlare. Il quadro di imputazione qual è completamente nella sua interezza? Duplice omicidio, premeditazione, la crudeltà nel commettere il reato, porto abusivo di armi, violazioni di domicilio, aver commesso il reato davanti a De Minorenzo. Il quadro non è... Tentato omicidio? No, per il momento no. Su quali caposaldi si baserà la sua difesa? Questa è una bella domanda, mi faccio lavorare, mi faccio studiare e valuteremo, è ancora un po' presto. Santa, ma come l'ha trovato lei? Non credo sia molto lucido. Nel senso? Nel senso che non ancora si rende conto di quello che ha fatto. Chiederà abbreviato condizionato perizia psichiatrica? Vedremo. Avvocato, per quanto riguarda le misure dell'isolamento, che cosa il PM ha insistito? Io credo che in questi casi l'isolamento sia una misura a favore dell'arrestato. Perché? Perché per la crudeltà con la quale ha commesso questo tipo di reato potrebbe essere infastidito dai compagni. Per il momento deve rimanere dove sta, abbiamo chiesto solo che gli venga revocato l'isolamento. Ancora la cronaca, colpo al Bancomat con l'esplosivo nella notte a Corropoli in provincia di Teramo, nel mirino dei banditi, la filiale della Banca Popolare di Bari di via Parini. Dopo aver fatto saltare in aria lo sportello ATM con una carica collocata all'interno, i malviventi si sono impadroniti del denaro per poi dileguarsi. Il bottino è in corso di quantificazione da parte del direttore dell'istituto di credito. Non è la prima volta che in provincia viene utilizzata questa tecnica per i furti in banca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale di Teramo e della compagnia di Alba Adriatica. Ancora la cronaca, una donna di 35 anni nata e residente a Roma è stata arrestata dagli uomini della squadra mobile della questura di Teramo con l'ausilio di quelli della mobile di Pescara. La donna che viaggiava a bordo di una Mercedes classe A è stata fermata per un controllo all'uscita del casello autostradale A24 di Basciano ed è stata trovata in possesso di un chilo di sostanza stupefacente di tipo hashish occultata all'interno del bracciolo dell'autovettura e destinata allo smercio al dettaglio nel mercato locale. E ora cambiamo pagina. La processione del venerdì santo a Penne ha assunto un valore simbolico diverso dal solito per una comunità ancora scossa dalla tragedia di Rigopiano e dalle problematiche legate al sisma e al maltempo. Alla cerimonia religiosa ha partecipato anche l'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, che ha voluto così lanciare un segnale di vicinanza alla popolazione Vestina, il servizio della nostra relazione di Vestina News. Una liturgia, quella del venerdì santo a Penne, che affonda le radici nel Quattrocento e quindi di fatto la processione del Cristo morto, più antica d'Abruzzo. Il reito che si snoda tra le piccole vie del centro storico è accompagnato dalla banda musicale e dalla corale Monte Camicia, che intona il miserere. Alla processione anche quest'anno era presente Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, che in questo giorno di passione per la Chiesa Cristiana ha voluto ricordare chi non ce l'ha fatta a sfuggire alla sciagura dell'hotel Rigopiano. Se c'è un momento in cui bisogna condividere il mistero della sofferenza, il mistero del dolore, le fatiche, le rinunce, le difficoltà, è proprio forse la sera del venerdì santo, quando ricordiamo colui che per amore di tutta l'umanità ha vissuto le più grandi difficoltà e i più grandi dolori, bisognerebbe dare una mano seria alle persone di Rigopiano a rimettersi in moto. Credo che per questo bisognerebbe lavorare. Poi sicuramente ci sono i cammini della verità, i cammini della magistratura che può acclarare, che può dire la verità su quello che può essere successo e quali sono le responsabilità. Ma certamente questo non ci ridà 29 persone e questo non ci ridà assolutamente la possibilità di riavere un luogo dove c'erano delle persone che lavoravano. Allora io credo che su questo si deve investire, su questo si deve lavorare e forse anche un segno di speranza potrebbe essere quello che la Caritas diocesana di Pescara Penne vuole mettere in atto proprio per ridare segni di speranza a quel territorio. Restiamo in tema dopo la tradizionale e particolarissima processione della Desolata che si svolge all'alba del Venerdì Santo con la Madonna che fa il giro delle chiese di Teramo in cerca del figlio morto. Nel pomeriggio di ieri, sempre a Teramo, si è tenuta la processione del Cristo morto a cura dell'arci confraternita della Santissima Annunziata. A capo della processione un confratello dell'Annunziata è incappucciato e vestito di nero con una pesante croce di legno dove pende il panno bianco del sudario. Subito dopo i confratelli che portano la statua linea di San Michele Arcangelo. Poi la fede vestita di bianco e raffigurante un giovane che porta una croce e che rivolge lo sguardo al cielo. Quindi le statue raffiguranti i simboli della passione portate a spalla da donne completamente vestite di nero. Il calvario, la corona di spine, la colonna della flagellazione, la tunica, la lancia e il gallo. Ultime due statue è quella del Cristo morto e della Madonna addolorata. La statua della addolorata è però diversa da quella usata nella processione mattutina. Nella processione della sera infatti la statua è vestita ed è inoltre ben più antica della desolata. Dopo aver percorso tutto il centro storico di Teramo la processione è rientrata nella chiesa dell'Annunziata. Cambiamo decisamente pagina. Presentate le quattro liste candidati di avanti insieme per Matteo Renzi in vista delle primarie del PD in programma il prossimo 30 aprile. Marzoli, oggi presentate qui a Pescara le liste di avanti insieme con Matteo Renzi. Parte questa lunga campagna elettorale, possiamo dire? In Abruzzo c'è fermento, c'è voglia di fare bene ma soprattutto c'è necessità di ridare alla politica uno slancio che riparta dalla meritocrazia. È importante insistere per trovare sui territori quelle energie nuove che magari non sono coinvolte direttamente in politico, in amministrazione per portare nuove idee ma soprattutto competenze competenze a livello regionale e poi anche a livello nazionale perché il PD ma tutto il sistema politico italiano ha bisogno di nuove forze capaci. Si può parlare di un PD unito quest'oggi sotto il nome dell'ex Presidente del Consiglio dopo le ultime fuoriuscite? La voglia di coinvolgere le persone rispettando diverse opinioni secondo me è la forza che deve traneare il centro-sinistra a tornare al governo in futuro e a livello locale dove non governiamo come Partito Democratico mettere in campo, come ad esempio a Chieti, mettere in campo una proposta per il futuro che dia credibilità ai cittadini e alla politica con Matteo Renzi segretario. Voi vi rivolgete ai vostri elettori ma anche ai tanti indecisi? Le primarie del PD sono aperte a tutti, quindi il 30 aprile nei seggi che verranno allestiti in tutta la regione Abruzzo, nelle quattro province, sarà possibile votare non solo per gli iscritti ma anche a quei delusi della politica o agli amici del centro-sinistra che si sono allontanati e che però vogliono portare un loro contributo anche in futuro in termini di idee e di proposte perché l'essere aperti all'esterno credo che sia la grande forza del Partito Democratico. Continua la raccolta firme dell'amministrazione comunale di Francavilla che invita i cittadini a sottoscrivere la petizione per l'abbattimento immediato di Palazzo Sirena. Per il comitato che difende l'edificio il sindaco mistifica la realtà dicendo ai cittadini che il palazzo è chiuso da 30 anni. Il servizio di Alfredo Primante. Entro il 25 aprile l'amministrazione comunale di Francavilla dovrà mandare delle memorie alla soprendentenza ai beni archeologici per Palazzo Sirena. Adesso state raccogliendo delle firme per coinvolgere anche la cittadinanza sul progetto di abbattimento del palazzo. In verità la cittadinanza è ben coinvolta perché fin dal 2012 con interviste televisive con video che sono stati messi in rete avevo manifestato il proposito dell'abbattimento del palazzo Sirena o meglio della riduzione dei volumi. Dopo abbiamo fatto una brochure distribuita in 10.000 esemplari, ho inserito questa opera nelle mie linee di mandato, votate a stragrande maggioranza al Consiglio Comunale. La cittadinanza ben sa. Le firme servono ad un altro scopo, a documentare questa cosa, cioè che questo progetto non esce fuori dalla testa di un matto che decide di fare un qualcosa di assolutamente non buono per il territorio, ma esce da una condivisione fatta con i cittadini. Da parte del comitato che si pone a salvaguardia della Sirena, il sindaco dice delle bugie perché il palazzo non è vero che è chiuso da 30 anni. Ma sì, sono le stesse persone che dicevano delle bugie in campagna elettorale, poi quelle persone si sono candidate contro di me, noi abbiamo avuto il 65% e loro uno scarso 5%. In realtà non capiscono queste persone che i cittadini non è che sono così ingenui di farsi ingannare, ma non si faranno ingannare neanche da loro e soprattutto da loro, perché i cittadini ben sanno che il palazzo Sirena, se non in sporadica occasione, è stato chiuso negli ultimi 30 anni, un palazzo che è stato sempre divisivo per la città e mai ha simboleggiato un'aggregazione della città e che Francavilla ora vuole cambiare pagina. Martedì prossimo 18 aprile in occasione dello sciopero nazionale degli addetti dalla rete autostradale nelle ore di maggior traffico, anche i marchi con pagamento solo manuale dei 28 caselli delle autostrade A24 e A25, seppur in assenza degli addetti alla riscossione del pedaggio, saranno aperti al traffico con semaforo verde. Lo ha reso noto la concessionaria a strada dei parchi aggiungendo di aver completato l'installazione del SART, sistema automatico del rilevamento delle targhe. Le targhe delle auto saranno fotografate, dopo qualche settimana i proprietari dei mezzi riceveranno per posta un bollettino di pagamento che senza gravi potrà essere pagato entro 15 giorni anche contattando agevolmente il centro servizi che fornirà tutte le informazioni utili. A decorrere dai 15 giorni scatteranno le sanzioni. È importante conservare il tagliando di ingresso che attesta il percorso fatto e sarà utile in caso di contestazioni del pedaggio. Rimarranno inoltre regolarmente aperti i varchi gialli del telepass e i varchi con cassa automatica dove si può pagare sia in contanti sia con carta di credito, bancomat, postamat o via card. Questo è quanto. Andiamo avanti con il Tg. L'amministrazione comunale di Pescara ha presentato il progetto relativo alla realizzazione del parco dello sport che dovrà sorgere nell'area verde dell'ex monopolio riacquisita dal comune. I dettagli nel servizio. In arrivo 150.000 euro di fondi dal CONI per la riqualificazione dell'area ex monopoli, tra l'altro un'area dove dovrebbe sorgere anche il comando provinciale dei carabinieri. Sarà un parco tra i più grandi e più belli di Pescara, costo totale 420.000 euro. Sì, 7.800 metri di verde tra via Rigopiano e via Passolanciano attrezzati per diventare il parco dello sport. I soldi del CONI arriveranno e arriveranno a giugno, intanto c'è stata una prima disposizione in questi termini perché abbiamo partecipato a un bando che si chiama Sport e Periferie. Un parco più sicuro ma soprattutto un parco gratuito con un percorso pedonale ad anello, con un campo di calcetto, un campo polivalente in erba sintetica di 42 metri per 22, un'area di sgambettamento per cani, sei piazzole di attrezzi ginnici per chi vorrà fare ginnastica all'aria aperta, e poi una cavea, c'è un piccolo luogo con una collinetta rialzata di un metro e cinquanta per permettere spettacoli all'aperto a chiunque vorrà esibirsi in quella zona con 120 posti a sedere, ma anche un impianto fognario, un impianto di illuminazione e un impianto eolico che possa permettere l'autonomia energetica ma anche una funzione educativa e didattica per la cittadinanza. E' un parco che la mattina servirà a due scuole che ci sono in zona, c'è la scuola di San Giovanni Bosco che è una scuola elementare e la scuola media Michetti che in questo momento non hanno un impianto. I lavori partiranno dopo lo stanziamento del coni che è previsto per giugno? Il tempo della progettazione e poi della gara noi contiamo di essere al lavoro già il primo gennaio del 2018. I tempi sono di un anno ma la speranza è quella di poter fare in fretta il prima possibile per riconsegnare questo splendido parco. Sull'eventuale apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi e sul mercato dello stadio di lunedì 24 aprile abbiamo ascoltato l'assessore comunale Cuzzi. Vediamo. Assessore Cuzzi, il 24 aprile per Pescara sarà una giornata particolare. In serata ci sarà la gara di campionato con la Roma, una gara che comunque potrebbe riservare dei rischi di ordine pubblico. La mattina di lunedì è programmato il mercato dello stadio, il mercato ambulante. Ci sarà questo mercato? Innanzitutto voglio chiarire che ad oggi noi non abbiamo sospeso alcuna attività mercatale, quindi il mercato è in programma per il 24. Non abbiamo ricevuto delle comunicazioni ufficiali, ma ci sono stati solo dei contatti relativi appunto, come dicevi prima, alla sicurezza per quanto riguarda lo svolgimento del mercato, visto che l'intera area dovrà essere chiusa anche con largo anticipo, appunto per i motivi legati alla sicurezza e all'arrivo dei tifosi da Roma. Noi però riteniamo che non si possa bloccare il lavoro in un particolare periodo anche in virtù del ponte del 25 aprile rispetto a una partita e soprattutto che le attività commerciali ed economiche nell'area debbano essere salvaguardate. Per queste ragioni abbiamo chiesto un incontro che si terrà domani mattina e riteniamo di poter offrire ampie soluzioni che garantiscono da una parte lo svolgimento delle attività mercatali come di consueto e dall'altra lo svolgimento della partita in piena sicurezza. Riteniamo però che una partita debba essere una festa e per questo vanno salvaguardate in primis le attività lavorative e poi la sera ci sarà la partita di calcio e pensiamo che tutto possa combaciare con un po' di buonsenso e soprattutto aumentando l'impegno appunto nei confronti della sicurezza che deve essere sicuramente salvaguardata. È stata presentata in regione la seconda edizione della Gran Fondo del Parco d'Abruzzo Lazio e Molise gara ciclistica amatoriale di 107 chilometri che si correrà il prossimo 25 giugno. Il cicloturismo è certamente un pezzo del futuro della promozione del territorio di tutte le comunità in particolar modo della regione Abruzzo che sta investendo molto su questo fronte e con degli investimenti corposi sia di infrastrutturazioni materiali ma anche immateriali con delle iniziative molto significative come queste e poi un ringraziamento ovviamente all'amministrazione comunale di Villetta Barria e ai comuni che mettono insieme un percorso promozionale del proprio territorio davvero significativo. Tornare a investire, dare forza a questo tipo di iniziative a mio avviso è davvero significativo per dare spazio a un'importante leva di sviluppo qual è questa regione che è una regione bellissima da vivere, una regione bellissima dove vivere. Non dobbiamo assolutamente trascurare, anzi dobbiamo far leva sugli aspetti turistici che una tale manifestazione può comportare che avranno sicuramente un maggior peso per quest'anno, per questa seconda edizione alla luce di tutte le problematiche che sono state vissute. In questo momento vogliamo far leva sulle nostre potenzialità, sulle nostre forze sulla nostra capacità di coesione territoriale per promuovere un evento che possa diventare davvero un evento con la E maiuscola e che possa essere conosciuto anche al di fuori dell'Abruzzo. Già siamo partiti nella precedente edizione con circa 600 iscritti. Villetta Barrea è un paese di 600 abitanti per cui potrebbe anche far paura questo numero ma noi non ci lasciamo assolutamente intimorire, anzi siamo già al lavoro da diversi mesi per far sì che tutto sia organizzato nel minimo dettaglio. E questo servizio ci introduce alla pagina dello sport con il Pescara che nel pomeriggio è stato battuto 2-0 all'Adriatico Cornacchia dalla Juventus, Juventus in gol due volte con il Pipita Higuain nel primo tempo. Juventus che poi ha controllato la partita nella ripresa contro un Pescara comunque dignitoso. Un successo quello della Juventus che avvicina la squadra dell'ex Massimiliano Allegri al titolo tricolore visto il concomitante pareggio della Roma con l'Atalanta. Mentre per il Pescara si avvicina il verdetto della retrocessione diretta anche alla luce della vittoria dell'Empoli a Firenze per 2-1. Un verdetto che potrebbe arrivare con il conforto della matematica già dalla prossima giornata. Comunque ascoltiamo le parole dei due allenatori Zeman e Allegri. No, penso che abbiamo fatto quello che potevamo fare. Magari mi dispiace il secondo gol. che la palla era chiusa e non siamo riusciti a chiuderla. Come prestazione, ripeto, all'inizio la squadra si muoveva anche bene. Poi dopo il secondo gol c'era un po' più confusione. Però è normale, abbiamo giocato con una squadra che ha vinto tanto, non solo in Italia, ma anche fuori. E quindi io posso dire che sono contento che abbiamo fatto meglio di Barcellona come risultato. La scelta di Brukman, a parte che l'abbiamo provato in settimana, non mi serviva più per costruire qualche cosa. Io ho avuto accanto che non ci riesco, ma nel senso che Ceri è abbastanza fermo, non gioca con una squadra. E come si è visto, è lo stesso, è più giocatore individuale. Invece Brukman può giocare con una squadra che ha i tempi. E oggi si è sacrificato anche tanto in fase difensiva che ci serviva. Ma montare è il suo modo di giocare. Lui gioca così da tanti anni, magari si giocava nel Milan, nell'Inter. Questi falli non vengono ammoniti. Con noi è normale, visto che è fallo da munizione, l'ha presa. Il parigi alla Roma abbassa la quota a Scudetto, perché era il 93, la quota a Scudetto è il 91. Quindi mancano 6 partite e noi bisogna fare ancora delle vittorie. È una vittoria importante perché venivamo dalla partita di Marti, dal doppio confronto con il Napoli, dalla partita con il Chievo e dalla partita con il Barcellona. E la squadra ha fatto bene. Perché? Perché ho cambiato 5-6 giocatori. Hanno interpretato la partita al meglio. Giocare alle 3 non era semplice, faceva molto caldo. Quindi la missione era quella di prendere 3 punti. I ragazzi sono stati bravi. No, sotto il ritmo no, giocare alle... Oggi non so quanti gradi c'erano, ma oggi faceva molto caldo. La palla poi... Il campo era bello, ma era asciutto, quindi la palla scivolava poco. Il Pescara ha iniziato molto aggressivo, perché c'è stato in molti falli. Ha iniziato anche bene, perché è andato subito dopo 3 secondi, è andato al tiro. Noi non avevamo iniziato bene, poi piano piano siamo entrati in partita. Al secondo tempo potevamo tecnicamente fare un pochino meglio. Se andiamo in Lega Pro, si complica il percorso salvezza del Teramo, che non va oltre lo 0-0 nel match casalingo contro il Forlì. Era uno scontro diretto. Il Teramo ha attaccato per tutta la partita, ma non è riuscito a vincere. Teramo che resta da solo al quintultimo posto, per via della concomitante vittoria del Mantua, sul campo del Sant'Arcangelo per 2-1. È tutto per questa seconda edizione del TG6, ma non andate via perché tutti gli approfondimenti sulla domenica calcistica ci saranno tra poco nel corso dell'appuntamento speciale con l'Abruzzo del pallone condotto da Jacopo Forcella. Il TG6 invece torna con l'edizione delle 23. Buona serata. Buona serata. Grazie a tutti.